Lasciata alle spalle la settimana santa, culminata con la risurrezione di Cristo, dove quest'anno la Pasqua Cattolica e quella ortodosso sono state celebrate lo stesso giorno, per la coincidenza del calendario pregoreano e giuliano, la vallata Stilaro, in occasione della giornata di Pasquetta, è invasa dai numerosi turisti che la prediligono per tutto quello che offre. Bellezze naturali, parchi, caratteristici antistorici e l'enogastronomia. I monumenti, poi, sono il vero biglietto da visita per la presenza della Cattolica di Stilo, del Cattolicon di San Giovanni Terestis di Bivongi e dell'eremo di Montestella di Pazzano, con la sua grotta naturale che ospita la Madonna della Scala. Tre preziosità presenti in un lembo di terra di meno di 4 km, che nessun'altra regione italiana può vantare, favorendo il turismo culturale che negli ultimi anni è un biglietto da visita essenziale per avere maggiori presenze e rilanciare l'economia di questa vallata posizionata agli ultimi posti nella classifica europea. Peccato che nella recente edizione dell'Abit di Milano, la regione Calabria non abbia dato il giusto passaggio ai turisti presentando con maggiore incisività anche Pazzano e Bivongi. Sui media non è stato dato alcun riferimento alla cittadina del ferro e ciò che insiste nel suo territorio in merito al passato industriale né su quanto offre Bivongi, quando si è parlato di percorsi religiosi, non citando neanche San Giovanni Terestis, il monastero ortodolso del secolo XI, con i suoi tratti arabi, bizantini e normandi, ritornato vivo nel 1994, dopo nove secoli di abbandono. E poi neanche un'immagine della cascata del Marmarico che dovrebbe essere un vanto per la Calabria perché è la prima del meridione d'Italia per i suoi 120 metri d'altezza. Si continuano a fare gaff e ancora si ricorda quanto si presentò nella passata edizione dell'Expo la Cattolica di Stilo in una slide con la scritta LOCRI RC Cattolica di Stilo. La migliore risposta alla regione Calabria la danno però i turisti che giungono numerosi nella vallata Stilaro pur se non ha l'attenzione che meriterebbe dall'assessorato preposto a veicolare la Calabria. A banda alle polemiche, oggi i turisti stanno godendo quanto offre il territorio e a essere invaso maggiormente è il parco di Biongi, immerso nel verde della zona Vignali lambito dal fiume Stilaro. Una giornata in pieno relax, da dove partono anche le escursioni lungo il percorso trekking, fino alle vecchie terme nelle acque sante di Bagna di Guida dove è visitabile anche la centrale di idraulettica inaugurata nel 1914 e fa parte del primo ecomuseo delle ferriere e fonderia di Calabria. Altro percorso alternativo, quello per raggiungere la cascata del Marmarico con le navette. 15 minuti percorrendo la strada sterrata che raggiunge l'acquedotto Marmarico. Un safari nel relax comodamente seduti nella jeep fino a giungere al ponte dove poi bisogna proseguire a piedi. Pasquetta perciò è la prima occasione l'offerta dalla primavera per riscoprire le bellezze naturali della vallata immersi tra le cromaticità delle piante e i profumi emanati dai fiori.